tra anni 50 e anni 60 e diciamo che prima di arrivare a parlare da un punto di vista proprio teorico degli autori del gruppo 63, degli autori della nuova guardia, vi presento una suggestione, così condivido con voi una suggestione relativa proprio alla parola giovinezza, perché quello che caratterizza questo gruppo è proprio il legame dato dalla giovinezza, quindi dalla condivisione di un fatto di essere tutti elementi di una stessa generazione. Quindi io ho fatto questo ragionamento, ho seguito un po' delle suggestioni, delle letture che avevo fatto, una storia dei giovani, anzi due storie dei giovani, in particolare questa di Patrizia Dogliani, storia dei giovani della Bruno Mondadori, pubblicato nel 2003 e quindi questa ricerca su che cosa voleva dire per esempio alla fine dell'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento fare la giovinezza, cioè fare giovinezza, era una definizione che riguardava l'esperienza di superamento del limite, quindi nelle feste patronali, nelle feste popolari di gran parte della Francia e dell'Europa centrale è stato rilevato che c'era sempre un momento della festa che era un po' il momento dell'eccesso e che veniva riservato ai giovani. Forse sono stata spinta a approfondire un po' questo aspetto, dalle circostanze presenti, quando noi dobbiamo discutere, dobbiamo ragionare magari anche insieme ai figli o comunque agli amici o altri interlocutori sul perché e per come sia così difficile far comprendere l'idea di un'attenzione riguardo degli altri e dell'osservanza delle regole, cioè osservare le regole serve a tutelare, in questo caso stiamo parlando della nostra situazione contingente, a preservare la salute di tutti, ma probabilmente facciamo fatica a far capire ai ragazzi che... l'immagine, ah ecco, ok. Quindi, e quindi dicevamo, no? Quindi la storia ci mostra, la ricerca storica ci mostra che già dalla seconda unità dell'Ottocento fare jeunesse per la jeunesse era appunto superare, indicava questi momenti nelle feste riservati ai giovani, in cui i giovani eccedevano, quindi superavano la sole dell'ecito, no? Esploravano i confini tra il selvaggio l'addomesticato, in modo di sostanze, e tutto questo terminava, una volta terminata la festa, quindi una volta avarcata la soglia, quindi della fine di questo momento riservato a loro, quindi metabolizzato l'eccesso, no? Con il ritorno alla normalità, i giovani quindi venivano accettati all'interno della società come degli adulti, cioè riproduttori di ruoli pubblici e privati e nel momento in cui la macchina del controllo sociale si riteneva soddisfatta, quindi non dovevano più costituire un problema, cioè una volta reintegrati all'interno della società, i giovani sono adulti e non presentano più problemi, ma fino a questa loro normalizzazione che poi ha anche delle tappe giuridiche, no? Per esempio la maggiore età, i voti eccetera, l'instabilità li caratterizza, quindi diciamo che la condizione giovanile è caratterizzata da questa instabilità, quindi oscillano sempre sul confine tra soggezione, dipendenza e indipendenza e l'analito all'indipendenza in una condizione di transitorietà, sono in un momento di passaggio, quindi questa zona di passaggio, questa zona liminale è la zona perfetta per la creazione di un mito, questo infatti, non pensate che adesso, cioè non spaventatevi, non è che voglio fare la storia dei giovani dall'antichità oggi, semplicemente due o tre slide giusto per così allargare un po' il discorso prima di partire, cioè quindi in sostanza cosa succede, no? Che nell'antichità questa transitorietà era anche una specie di liminalità geografica, cioè una zona a parte, la metodologia racconta infatti di reti di passaggi che erano concentrati sul contrasto tra la natura e la cultura, quello più, come dire, famoso, no? È la consegna dei giovani al centauro Chirone, di cui ci parla Machiavelli quando ci dice che quelli principi antichi furono dati a nutrire a Chirone Centauro e che viene qui raffigurato, rappresentato in questo dipinto olio che si trova nella Galleria Nazionale dentro la pilota Parma, no? Un pittore del Settecento che quindi rappresenta, cioè ferma in questa immagine la storia per cui la madre Teti affida il giovane Achille al centauro Chirone, il centauro Chirone indica con la mano l'erma di Omero, Omero che ha in mano anche l'arco e le frecce e sotto c'è anche però lo strumento musicale, quindi l'educazione sarà un'educazione completa che comprenderà sia l'addestramento culturale, quindi la lettura di Omero, cioè sapere Omero, imparare Omero, conoscere Omero, ma anche l'avventura del coraggio, la caccia, quindi un'educazione completa che può essere impartita però soltanto da una figura come quella del centauro che a sua volta è una figura liminale, una figura di soglia, quindi una figura a metà, no? Che rappresenta in sostanza la sintesi tra natura e cultura e questo si trova nelle pitture vascolari, si trova diciamo un topos che troviamo anche fino a pittura del Settecento. A Roma era il rito dell'Upercalia che si occupava, che trattava questa idea del passaggio della soglia dei giovani, no? E quindi il rito dell'Upercalia che celebra la giovinezza nelle selve di Romuleremo, una giovinezza leggendaria, abitatori dell'Upercal, questa grotta, nascosta in un bosco alle falde del Palatino. Nell'Upercal, appunto il giorno dedicato ai giovani, cosa succede? Che i Luperci, i lupi nudi, quindi senza la toga che indicava la loro appartenenza alla città e quindi non Cives, no? Ma Luperci, si rincorrono in spregio a qualsiasi ammonimento alla serietà, no? Sono selvaggi in sostanza. È un disprezzo delle regole ostentato, scaturito in un clima di estrema conflittualità perché il diritto romano, la patria potesta, imponeva un controllo, finalità adulta ai giovani e quindi il figlio è impossibilitato a raggiungere un'autonomia giuridica ed economica. E allora cosa succede, no? È spinto a cercare alleati e dagli altri, dagli altri compagni, dai coetani, si rivolge ai coetani. Quindi al legame di sangue sostituisce il legame tra pari, quindi questa dinamica del cercare sostegno tra i pari, tra i coetani, è una dinamica che si ripete nei secoli e assume caratteristiche diverse a seconda dei contesti, ma sempre il medesimo fine, cioè produrre un dispositivo che sia in grado di circoscrivere il gruppo dei simili e accentuarne l'alterità rispetto al mondo degli adulti. Anche questa è una caratteristica che assolutamente il gruppo 63 condivide, ma non siamo ancora arrivati al gruppo 63 perché ci avviciniamo gradualmente, no? Questa è la festa dei Lupercali, appunto a febbraio, perché i giovani Luperci quindi usavano quelle specie di fruste per colpire, no? Chi si presentasse loro di fronte. E poi faccio un salto temporale, perché non posso fare la storia dei giovani appunto dei greci romani fino al 1963, no? Questo non vorrei finirvi e passiamo al Novecento, ci avviciniamo al Novecento, il Novecento che forse più che secolo breve, no? Potrebbe essere più, in modo più pertinente definito, il secolo lungo dei giovani, perché la storia dei giovani nel Novecento comincia prima, la fine dell'Ottocento con movimenti risorgimentali che diciamo si servono dell'energia, no? Progressista dei giovani, tant'è vero che per essere accettati all'interno della giovanità e della giovane Europa non bisognava aver superato i quarant'anni, perché si pensava che oltre fosse per ritenersi esaurita la carica appunto progressista dell'individuo, no? Quindi i giovani entrano nel mondo della politica, nella sconda metà dell'Ottocento e agiscono in varie organizzazioni studentesche, operaie. Il Novecento nasce come secolo giovane, dinamico. Questa immagine, questo fotogramma del film Novecento è quello che ho scelto dopo averne passato in rassegna diversi, perché ho fatto fatica a trovare qualche altra immagine, per motivi personali immagino, cioè per motivi personali sono convinta, che racchiudesse questa idea di modernità, di giovinezza, di entusiasmo, che sono un po' i termini che troviamo nella letteratura e nel panorama culturale di inizio secolo. Quindi è un secolo che nasce come secolo giovane, dinamico, si porta dietro tutte le qualità della giovinezza, il dinamismo, è percorso da radicali novità in tutti i campi, è libero dal fardello della conservazione e lo sarà soprattutto grazie poi alla prima avanguardia che incontriamo, cioè il futurismo, che si assume è questo compito di liberarsi dalle catene e dal peso proprio il fardello di tutto il passato, con la parola d'ordine dell'abolizione e della distruzione dei musei in sostanza. Questo vitalismo dell'inizio Novecento, che qui ho deciso di appunto rappresentare, cioè di dimostrarvi attraverso queste due icone del cinema, al massimo del loro splendore, secondo me, trova una rappresentazione artistica di grande efficacia con la Sagra della Primavera di Stravinsky. Perché? Cosa succede? Che questo balletto commissionato appunto ai balletti russi di di Agiles e che unisce Stravinsky come compositore, Gnifinsky come coreografo, l'impresario di Agiles, insomma il meglio di quello che la cultura di allora potesse comprendere, che viene rappresentato appunto per la prima volta a Parigi nel 1913, racconta proprio di un mito di rinascita, cioè in sostanza le sacre, il cui significato etimologico non è tanto sagra nel senso di festa, ma è sacra nel senso di sacrificio, quindi il sacrificio di una vergine, questa vergine, qui abbiamo il bozzetto dei costumi di allora, questa vergine che deve essere sacrificata, attenzione, davanti a un consesso di anziani che rappresenta chiaramente, è possibile non pensare a questa idea, la nascita del nuovo secolo, cioè il periodo appena trascorso, il primo decennio del Novecento, ma che racchiude anche una specie di premonizione tragica per certi versi, perché abbiamo detto la prima del 1913 e quindi sembra preannunciare anche il disastro della prima guerra mondiale, il sacrificio della generazione dei giovani appunto nella prima guerra mondiale. A guerra finita sembra che l'attenzione rivolta ai giovani e a tutti i paesi d'Europa cambi molto radicalmente rispetto all'attitudine che abbiamo visto nella seconda metà dell'Ottocento, come se una volta esaurito il propellente che i giovani hanno portato nel risorgimento e hanno portato anche nella prima guerra mondiale, il problema adesso fosse da parte degli adulti quello di controllarli, controllare questi giovani e quindi reggimentarli, regolarli con una certa dose di paternalismo e soprattutto i giovani devono essere trasformati in una classe laboriosa, una classe che deve appunto collaborare all'altamento della società, al progresso. La resistenza a questa trasformazione, cioè quanto resistono i giovani a passare da essere una classe pericolosa a una classe invece rassicurante e laboriosa, in sostanza caratterizza direi la contestazione degli anni sessanta, cioè esplode nella contestazione degli anni sessanta, dopo la quale la storia dei giovani entra nella storia europea. I decenni centrali del Novecento, quelli che vanno dal 1918 al 1968, possono essere letti proprio come questo continuo tentativo degli adulti di controllare i giovani, fino all'esplosione, al botto finale. C'è un altro elemento da segnalare, cioè diciamo questo processo di trasformazione dei giovani in una classe laboriosa avviene in un contesto in cui grandissimi cambiamenti inversano la società. Quindi innanzitutto che cosa succede? Succede che a partire dagli anni cinquanta le culture europee subiscono un processo di influenza davvero, secondo dopoguerra in sostanza, anche dal 45 possiamo dire, influenza dal punto di vista culturale e sociale dei costumi da parte degli Stati Uniti d'America e quindi questo comporta l'idea che il giovane sia identificato principalmente come un consumatore e quindi un target privilegiato dei mercati. E questa celebrazione quasi apologesca della giovinezza avviene proprio attraverso il linguaggio pubblicitario. Il giovane è il destinatario della nuova moda, della nuova musica, non il rock and roll, prima il blues per rock and roll, la nuova moda, i jeans, le nuove abitudini alimentari, la coca cola, il fast food, eccetera, le nuove modalità diciamo di divertimento, quindi la danza, il ballo, il drive-in. Coincide questo anche per l'Europa con un momento di enorme disponibilità di merci, questo periodo di affluenza delle merci, impensabile nell'immediato dopoguerra. Quindi che cosa succede? Succede che abbiamo questa eccedenza delle merci sui mercati, abbiamo l'eccedenza della comunicazione attraverso i media in espansione e cominciano a delinearsi delle caratteristiche che ci aiutano a capire quale fosse il contesto storico e sociale prima della comparsa appunto del gruppo 63. Quindi in Italia quali sono i dati storici e sociali che ci interessano? Quindi una massiccia immigrazione interna, il mutamento del panorama sociale del nord, il nord diventa un nord industrializzato, il triangolo industriale appunto si caratterizza come il triangolo dove approda l'immigrazione interna e il volto delle città come Milano, Genova e Torino cambia radicalmente, non vi dico niente di nuovo dicendovi questo, lo so, e il rapido passaggio quindi da una economia di tipo agricolo al dominio invece dell'industria e del terziario. Tra gli scrittori c'è chi guarda questo passaggio con nostalgia, con rimpianto in vari modi, penso a Pasolini che è forse quello che con un voce più distinta esprime questo rimpianto di un mondo perduto che lui idealizza chiaramente con accenti anche moralistici che un po' caratterizzano la produzione di Pasolini e che forse adesso ci sembrano più evidenti di quanto non fossero magari qualche tempo fa. Quindi abbiamo detto l'afflumento delle merci, abbiamo detto industrializzazione, terziario, quando si presenta questo periodo di solito, quindi la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, si tende sempre anche a ricordare il cambiamento che avviene nella scuola italiana nel 1 ottobre 1963, parte un anno scolastico diverso da quelli precedenti perché nel 1963 abbiamo il debutto della nuova scuola media obbligatoria unica fino a 14 anni. Ma è chiaro che gli effetti di questa scolarizzazione si vedranno in seguito, saranno quelli che si vedranno appunto nel 68, ma non certo a ritroso, comunque lo abbiamo come dato. Altri dati importanti, per esempio, abbiamo nel 63 4 milioni di abbonamenti alla televisione, ma per esempio la varietà del sabato sera Il Musichiere è guardato da 19 milioni di italiani, paragonateli ai 10 milioni di media e di spettatori che ha avuto il Sanremo di quest'anno. Cioè un'enormità di persone, la televisione veramente era un mezzo di comunicazione di massa, di potenza incredibile, proprio per la sua forza del modellare l'opinione, i costumi, il modo di vita, le abitudini, di entrare non solo nelle case, perché 19 milioni che guardano il Musichiere non lo guardano in casa, ma di modellare proprio la fruizione neanche del mezzo. E un altro lato importante è il fatto che tra il 48 e il 69 cosa succede? Che il reddito degli italiani quadruplica. Quindi c'è un'enorme disponibilità di denaro che coincide con la corrisputtiva assaluenza appunto delle merci. Però prima di arrivare a 63 bisogna dire due parole sugli anni 50. Gli anni 50 furono un periodo abbastanza buio e conformista, molto diverso dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60. E ancora la società è una società gerarchica per quello che riguarda per esempio le classi sociali, per quello che riguarda i sessi per esempio. C'è molta repressione nei costumi, c'è molta repressione nelle abitudini, nei comportamenti. Sono giovani senza gioventù, come si dice. È un periodo bloccato che si sblocca proprio verso la seconda metà degli anni 50. È una specie di immobilismo politico e sociale che comincia nel 48 e che poi porterà appunto alla contestazione del 68. E quindi che cosa succede? Succede qualcosa che Pasolini mette in evidenza. Succede che dalla seconda metà degli anni 50, primi anni 60, una delle parole d'ordine principali nel discorso comune è quella della libertà, la libertà dell'individuo, la libertà del singolo, la libertà dei giovani, la libertà del comportamento. Questa parola, questa libertà che appunto è una parola che sottolinea questa importanza assunta dall'individuo all'interno della società, secondo Pasolini si sposa con la mancanza del limite per esempio dell'offerta di merci dello stesso periodo. Quindi paradossalmente quello che era un inno diciamo alla liberazione dell'individuo sul piano sociale, culturale, si lega dissolubilmente invece con una dipendenza dai consumi. Cioè la libertà politica, la libertà auspicata dal punto di vista politico, si coniuga con la libertà del mercato, cioè con l'assenza di limiti nel mercato e quindi con questa sovvenzione alla dissipazione infinita delle merci. Quindi paradossalmente secondo Pasolini la parabola conclusiva di questa vicenda è il 68 nel quale il mercato, la massima espressione del capitalismo si sovrappone alle aspirazioni, alla trasgressività, cioè la trasgressione, alla contestazione, alla liberazione dei giovani. È un'analisi che secondo me può essere accolta anche se è drammaticamente come dire poco conservatoria, però è così. quindi avevamo detto prima, avevamo accennato prima appunto al tema della generazione, no? Quindi come possiamo definire la generazione? La generazione è un termine che non precisa un ciclo di vita, ma un gruppo sulla base di esperienze esistenziali, culturali, politiche condivise in una fase storica della vita degli individui che non necessariamente coincide con la giovinezza e non è neanche, c'è una, diciamo, una fase, cioè non comprende neanche un gruppo omogeneo da un punto di vista sociale, però il gruppo che dà vita alla generazione diventa omogeneo attraverso un processo di autoidentificazione o di separazione da altri, quindi sia una generazione perché sia diversi da altre generazioni, da altri gruppi. Le relazioni tra le generazioni producono progetti e azioni, fanno perdere al concetto di generazione il dato puramente biologico, è una coincidenza puramente, veramente biologica, no? Nel linguaggio comune si includono in una generazione individui che hanno condiviso all'età giovanile un'esperienza tale da assegnare fortemente la loro identità di adulti, per esempio i ragazzi del 99 spediti in guerra, no? La generazione del 22, la generazione della resistenza, i giovani di Salò, quella del 68 e del 77. Quindi questo è appunto il concetto di generazione che ci serve un po' per introdurre appunto il devuto dei giovani del gruppo 63. Nella mia slide iniziale ho messo, no? I giovani arrabbiati, gli arrabbiati italiani, arrabbiati tra virgolette, perché il riferimento, cioè che cos'è, no? Nell'orecchio si ha la definizione di arrabbiati inglesi, appunto, no? Angry Young Men, che è una definizione giornalistica affidata a questo gruppo di scrittori anglosassoni attivi tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, il cui portavoce riconosciuto è naturalmente l'autore John Osborne, l'autore di Ricorda con rabbia, Luke Beckenhanger, quindi esprimono sì un rifiuto radicalmente critico, no? Della società di massa, tema dell'alienazione, le istituzioni, la famiglia, se penso a Ricorda con rabbia direi che c'è il rifiuto prevalente e quello nei confronti della famiglia, no? Ma la rabbia però non investe l'aspetto formale, diciamo, perché la maggior parte delle opere di questi autori mantiene dal punto di vista stilistico e formale, diciamo, un'adesione ai modelli tradizionali ed è estranea a qualsiasi sperimentalismo, quindi è una, diciamo, arrabbiatura, è una rabbia che si esprime a livello tematico. Per quello che riguarda invece il gruppo 63, e qui vediamo, no? Alcune frontispizi di opere che hanno a che fare con il gruppo 63 e questa è la famosa definizione dell'avanguardia del vagone letto, no? Che appunto è che questa è una definizione giornalistica, quindi il gruppo 63 fu sicuramente un'esperienza generazionale, preparata dalla pubblicazione dell'antologia appunto I Novissimi, qui vediamo qui il frontispizio, pubblicata nel 61 a cura di Alfredo Giuliani, ma anche da varie riviste attive, il Verri, qui vediamo, Menaboi, Officina. Come scrive Umberto Eco, quello che conta è il dato di una irrequieta multiformità del gruppo, cioè l'unità si andava realizzando a poco a poco, quindi non partono, no? Come dire, uniti, come abbiamo detto prima, la generazione si forma attraverso l'esperienza, attraverso il confronto, quindi questo gruppo si forma attraverso l'esperienza e il confronto, non è un movimento che nasce con una parola d'ordine subito che ne costituisca l'identità. E quindi, dice, sono due le modalità che dovevano servire per segnare la distanza tra chi fosse nel gruppo e chi non lo fosse. Ogni autore sentiva necessario controllare la sua ricerca, sottoponendola alle reazioni altrui. Poi, la collaborazione si manifestava come assenza di pietà e di indulgenza. Cosa significa? Significa che i giudizi espressi dai membri del gruppo riguardo alle opere, no? Sottoposte al giudizio di tutti, sono spietati. Allora, questa è un'esperienza che posso condividere, di cui ho avuto un proprio prova personale, perché, come sapete, per molti anni questa modalità che nasce con il gruppo 63, che nel secondo anno della sua vita, nel 1964, si è trovata appunto a Reggio Emilia, questa modalità è stata poi mantenuta in vita. Nel senso che a Reggio per anni, molti anni, a un certo punto in primavera c'era sempre un incontro che più o meno, no? Era organizzato sulla falsariga di quelli del gruppo 63, prima si chiamava Ricercare, poi non mi ricordo che altro nome avesse assunto, ma funzionava allo stesso modo, perché succedeva che scrittori giovani, esordienti, presentassero le loro opere a invece scrittori di generazioni precedenti e che questi esprimessero dei giudizi. Quindi mi sono trovata proprio ad assistere a delle stroncature pazzesche, quindi questa modalità di cui ci parla Eco ha avuto un seguito, è stata mantenuta. L'idea di fondo di questa collaborazione tra pari è proprio, abbiamo detto, una di quelle idee che uniscono gli appartenenti al gruppo 63 e è un'idea che si oppone allo stereotipo romantico dell'artista che riceve l'ispirazione, come se fosse appunto la freccia, in solitudine. Certo, ci vuole disponibilità a sottoporsi al giudizio altrui, un giudizio espresso pubblicamente. Nell'intreccio di tutte queste relazioni collettive nascono legami tra vari artisti, soprattutto di vari ambiti, vestiti insieme dall'incessante lavoro organizzativo di Nanni Balestrini, che un po' svolge questo ruolo di curatore della vita del gruppo. Quindi su queste coordinate si delinea una strategia, come si è dato dal gruppo 63, che ne costituisce la peculiarità e ne sintetizza il carattere fortemente innovativo, non solo sul piano dei contenuti. Quindi diciamo si differenzia, scusatemi, devo soffiare il naso, si differenzia rispetto ai giovani arrabbiati inglesi, perché se è possibile la forza innovativa del gruppo 63 riguarda fondamentalmente non i contenuti ma il metodo, quindi il metodo che si basa sulla discussione non ad opera finita, ma mentre l'opera si fa e crea l'humus perché questo avvenga. Quindi è un criterio spiccatamente generazionale che definisce la fisonomia della nuovanguardia e non stupisce, perché l'ispiratore della nuovanguardia è Anceschi. Anceschi che ha sempre creduto che fosse meglio coinvolgere con panni d'armi nati su per giù negli stessi anni, per arrivare al massimo dell'efficacia euristica, dell'efficacia inventiva, creativa, che quasi per ragioni fisiologiche si trovano indotti ad assumere panni comuni. Quindi lui ha sempre caldeggiato questa idea della generazione. Ecco, sottolinea, ecco un po', diciamo che è l'accompagnatore di questo mio viaggio, la guida di questo mio viaggio nel gruppo 63, per la chiarezza delle sue affermazioni, perché credo che sia una delle personalità appunto che si è più interrogato dal punto di vista teorico, tenendo sempre conto la necessità di comunicare i risultati delle proprie interrogazioni agli altri. Quindi Ecco sottolinea questa idea e ci propone questa cronaca degli incontri che avvenivano nel retro del Blue Bar in Piazza Meda a Milano, tramite Anceschi, e questo era proprio il dialogo con un dialogo fruttifero, comportava un dialogo fruttifero con le generazioni precedenti, perché nel retro di questo bar si incontravano questi giovani con Montale, con Gatto, con Sereni, con Dorfless, con Pacino, e quindi c'era questa consuetudine al dibattito. Franceschi, una volta esaurita la carica, l'energia, la spinta di quelli nati intorno agli anni 30, si sposta poi e sostiene quelli nati negli anni 40, quindi per esempio Spatola, per esempio il gruppo di Malebolge, quale poi farà parte anche Corrado Costa, perché è più in sintonia con la loro poesia un po' aerea, un po' volatile, eccetera. Avanguarda il vagono eletto, dicevamo un'altra definizione giornalistica come quella dei giovani arrabbiati, attribuita a Umberto Eco, ma che poi Umberto Eco ha ripudiato, ma è successo ugualmente, quindi abbiamo detto che fu un'esperienza generazionale preparata dalla pubblicazione dell'antologia I Novissimi, a cura del Freddo Giuliani l'abbiamo detto. E cosa dice Eco? Ci dice che c'è una differenza tra le generazioni, perché ci può essere la generazione di Vulcano e la generazione di Nettuno, e quindi vediamo che cosa intende, no? Ci fu un tempo delle generazioni di Vulcano, cioè momenti storici in cui fu possibile essere vulcanici, scandalizzare il borghese con i miei esercizi, scendere per strada, sparare un colpo di pistola, perché questo è Dada, no? C'era qualcosa da fare, si poteva fare subito, con estrema chiarezza, anche da sopra. Secondo i parametri della generazione di Vulcano, quella di Nettuno non produce, non ha prodotto, non produrrà opere visibili. Qui non sta ragionando di opere, ma di una disposizione alla ricerca. Per ora mi riesce di riconoscermi solo in un gruppo di persone sedute intorno a un tavolo. Si mostrano l'un l'altro le tessere di un mosaico, i contorni non combaciano ancora, perché, no? Sottintende eco, appunto, è un processo appunto di ricerca. Quindi quello che stride, che colpisce, è il dato relativo alla posizione sociale dei contendenti, no? Contendenti in che senso? Perché in sostanza i giovani del gruppo 63 contendono lo spazio del campo letterario alle generazioni precedenti. Quindi seppur si confrontano con loro, lo scopo è quello di subentrare alle generazioni precedenti. C'è uno studioso francese, un sociologo, Pierre Bourdieu, che appunto analizza questi meccanismi nei vari campi del sapere, in particolare nel campo letterario, no? E li chiama i nuovi entranti, i nuovi entranti che premono per... Però attenzione, qui la situazione è abbastanza complessa, perché i giovani del gruppo 63, come dice appunto Umberto Eco, non sono ai margini del mondo culturale. E non sono bohemian mossi da un bisogno di avanzamento in questo processo di legittimazione, no? Non... Ce li hanno già le incariche nelle case editrici e le collaborazioni con i quotidiani più diffusi e non ostentano nessun rifiuto, quindi non assumono i toni dei bohemian. Sembra che il gruppo 63, quindi, composto per lo più da persone nate intorno agli anni 30, passate indenni attraverso la guerra, adulte, si trovano adulte in un mondo pieno di opportunità, come abbiamo detto, no? Fino agli anni 50, primi 60. Proprio in virtù dell'indipendenza economica che caratterizza i membri, ok, del gruppo, sembrano contraddire e sostenere il paradosso della bohem, quello che Bordio chiama il paradosso della bohem. Cioè, cosa significa? Bordio dice, è inevitabile che l'artista sia destinato a perdere sul terreno economico, a breve termine, per trionfare sul terreno simbolico. Quindi giova l'artista, pensiamo a Foscolo, per esempio, giova l'artista essere economicamente come dire, sfortunato, tra virgolette, appunto, per avere a lungo termine un successo simbolico, cioè per essere assunto nel canone. Questa è l'idea, appunto, di Bordio. E' sempre ecco che ribadisce questa peculiarità sociale del gruppo 63, pattuglia di rivoltosi che agiscono dall'interno di posizioni già acquisite, dall'industria culturale. E quello che temono non è l'arresto, non sono i bohemian che hanno paura di essere arrestati perché sono trasgressivi, no? Perché sono ai margini della società. Quello che temono è la mercificazione, cioè la trasformazione in prodotti culturali, immerci, perché l'obiettivo dei loro strali è questo processo di mercificazione. Noi eravamo già sistemati, dice Eco, non avevamo bisogno di arroccarci in una difesa corporativa. E sono sostenuti anche dalle case editrici. Pensiamo a Feltrinelli. Cioè, innanzitutto, Feltrinelli come editore sostiene il Verri, la rivista, a parte del 62, che è un po' l'incubatorio teorico della nuova guardia, no? Ma ospita gli autori in varie collane. Gli ospita nelle collane le comete, materiali, poesia, che sono curate da Rive Balestrini, che sono due membri del gruppo 63. La peculiarità che garantisce questo ruolo all'editore milanese è sintetizzata da Arbasino in una formula. Arbasino è l'autore che privilegia appunto le formule, una secche, quelle che poi hanno successo, la casalinga di Voghera, per esempio. Il lusso di possedere due anime. Cioè, quella che ha pubblicato Gattopardo, un enorme successo internazionale, e l'altra che possiede l'esclusiva dei giovani scrittori, appunto questa nuova guardia, che etichettano Cassola e Bassani come l'Egliale. Come l'Egliale, quindi grandissima polemica proprio nello stesso anno tra Bassano e Arbasino sul concetto di romanzo, no? Una polemica che ha avuto anche dei risvolti giallistici, eccetera, perché a un certo punto sparisce un manoscritto dagli uffici di Feltrinelli. Comunque, quindi l'editore Feltrinelli ha queste due anime e ha due autori del gruppo 63, cioè a Nanni Balestrini e a proprio Arbasino, spetta il compito di immortalare i funerali dell'editore amico, ma in due testi che sono opposti, no? Per, diciamo, contenuto. L'amico al quale entrambi devono, appunto, i riconoscimenti e l'ingresso nel campo letterario, perché sono stati sostenuti, appunto, da lui. Balestrini dedica diverse pagine, in uno, chiamiamolo così, romanzo, un romanzo particolare, naturalmente, all'editore, nel 1989, alla figura di Feltrinelli, in una rilettura politica di quel periodo, che rievoca il funerale, come una cerimonia culminante in un processo di appropriazione del mito dell'editore rivoluzionario da parte dei gruppi extraparlamentari. E ci dice, no, Balestrini, d'improvviso, però, il coro si è alzato di tono. Le voci ci sono fatte rabbiose. Le mani chiuse a pugno sono diventate una selva e hanno cominciato a sventolare le bandiere rosse. Compagno, sei stato assassinato. Compagno, sarai vendicato. Cioè, slogan e altri grida di rabbia, altre minacce contro la borghesia assassina. Tra l'altra parte, Arbasino dedica un memorial all'amico, appunto, a Feltrinelli, e invece Arbasino mette in risalto il funerale come momento rivelatore della personalità stratificata, no, di Feltrinelli stesso, che sfugge al punto di essere frainteso fino ad arrivare a delle punte comiche. Perché dice Arbasino, c'erano diversi oratori sul palco durante, appunto, il funerale. Mentre parlava la scrittrice Barri Antonetta Maciocchi, tutto il gruppo giovanile intorno a me si passa la voce. È la cederna, è la cederna. Credendo di fornire un'informazione cronichissima, cioè per essere preciso, no? Dico, è la maciocca, non è la cederna. Trattato, circondato come un provocatore, per poco non le prendo. È la cederna, mi gridano in faccia, facendo cerchio minaccioso. Vabbè, quindi, quando avevamo appunto visto con Eco i due elementi fondamentali, no, che costituivano i legami della generazione del gruppo 63, cioè mostrare, sottoporsi al giudizio degli altri, no, mostrare le proprie opere mentre si fanno, avevamo anche visto da parte di Eco appunto la descrizione della generazione di Vulcano. Invece, secondo Eco, la loro generazione è la generazione di Nettuno. Cioè, no, questa definizione racchiude questa speranza di un cambiamento, anche sociale, perché il gruppo 63 è sicuramente, seppur con colori diversi, politicamente molto, molto ispirato, no? Però questo cambiamento sociale dalla generazione di Nettuno deve essere preparato freddamente. Cioè, viene inserito questo concetto, no, dell'agire freddamente attraverso la ripetizione di gesti, di parole, di idee, la variazione graduale, ok? Più che con tonanti presi di posizione, no, rivolte a scandalizzare appunto i borghesi, che invece vengono digerite immediatamente dal meccanismo mediatico. E quindi le autori del gruppo 63 ne sono assolutamente consapevoli, perché qualsiasi operazione scandalistica, no, provocatoria, va a finire in una galleria d'arte. Cioè, entra nel meccanismo del mercato. Quindi, a un altro critico, Berardinelli, torna su questa propensione la freddezza, evocando, come modello, Beckett, no? Un Beckett riprodotto in laboratorio, sterilizzato, di cui viene colta proprio l'attitudine fredda, addirittura predisposta al congelamento di ogni potenzialità del linguaggio poetico. Cioè, congelamento di qualsiasi pathos, di qualsiasi lirismo, questo è. E in dubbio, dicevamo, ah, qua avevo messo delle slide che ci parlavano del punto di vista degli anziani riguardo al gruppo 63, no? Quando questo gruppo compare, appunto, sulla scena, naturalmente, con il convegno di Palermo del 1963, naturalmente, sulla stampa troviamo diverse pareri di intellettuali che si pronunciano, no? La comunanza generazionale del gruppo, con l'accezione, cioè, viene intesa come un compatto fronte di guerra, che caratterizza, d'altronde, il linguaggio, no? Neo-vanguardia, avanguardia, è un termine mitaresco, viene registrata in diversi commenti coedi, che danno conto di, si parla, di giovani progeni, di scrittori che premono andate minacciose contro gli anziani che ingombrano il cammino. Abbiamo detto, nuovi entranti che vogliono sgombrare il campo, ma abbiamo detto, però, questa precisa, abbiamo precisato che loro c'erano già nel campo, in sostanza, no? Al cui interno allignano autori teatrali convinti che, per fare dell'avanguardia, basti sostituire alle parole che strappavano l'applauso, la parola culo, cioè, provocare, no? Ricorre nei commenti il riferimento allo scontro generazionale, anche con toni astri. Ma allora, cosa vogliono? È presto detto quello che vogliono, si dice. Giovanissimi sono buttati a sinistra, e in virtù di questa scelta hanno ottenuto, giovanissimi, vezzeggiamenti e lauti stipendi. L'appetito viene mangiando, e privi di veri motivi ideali, la loro avidità è adesso aumentata. Si rivoltano contro i padri putativi e vogliono mettersi al loro posto. Ribadisce Eco, eravamo già sistemati, appunto. Non avevamo bisogno di arroccarci la difesa corporativa. Troviamo anche altri giudizi, no? Per esempio di Ungaretti. Ungaretti guarda con indulgenza a questa aspirazione dei giovani e guarda con favore agli assalti di quelli che lui chiama i giovani turchi, no? Che secondo lui rivitalizzano una società letteraria troppo spenta. I giovani, è logico, dice Ungaretti, mi dispiace non avere la voce di Ungaretti, comunque, hanno bisogno di farsi strada. Nessuna meraviglia che facciano del chiasso. Ebbene che il genere spas, quindi, no? Appare più amara la constatazione di Pietro Citati che definisce le insolenze giovanili penose come le difese dei vecchi. Nelle parole di Montale, invece, è intuibile il sarcasmo, perché cosa dice Montale? I giovani, da parte loro, parlo di quelli che si occupano di letteratura, sono spesso piccoli mostri infarciti di citazioni. Leggono tutto, conoscono 20-30 riviste, concepiscono la cultura come un'iniezione continua di nozioni, posseggono un impressionante vocabolario, ma sono poveri di intelligenza. Uno non può permettersi al loro posto di avere idee. Tutto finisce in soldi. Ormai riescono a guadagnare anche vendendo la propria disperazione, vera o falsa, che sia. Quindi, qui abbiamo Ungaretti, no? fotografato in mezzo alcuni rappresentanti del gruppo 63, si vede Balestrini, bellissimo, dietro Ungaretti, si vede Filippini, no? Il traduttore dal tedesco, sono due ragazze, Carla Vase, quella che sta per spegnere la torta con le candeline. E qui abbiamo di nuovo un rappresentante, appunto, diciamo, Filippini, un importantissimo traduttore della Germania, del tedesco, e Carla Vase, no? Si trattava questa foto, perché Carla Vase è una voce femminile importante come testimone di quel periodo e di quegli anni e di quelle vicende, perché ci sono state alcune donne che hanno partecipato alle sedute del gruppo 63, ma non hanno avuto risonanza. A parte Amelia Rosselli, che, come poi Tessa, appunto, ha fatto un percorso suo, individuale, riconosciuto, naturalmente, molte altre, non hanno avuto risonanza. E Carla Vase qui testimoniano come funzionava il meccanismo di aggregazione all'inizio. Prima che si formasse ufficialmente il gruppo dei nuovi scrittori detto gruppo 63, la nostra non era una rivoluzione programmata, quindi si ribadisce questo concetto. Avevamo in comune solo la voglia di mettere in crisi lo stile accreditato, quindi lo stile che vigeva, quindi, per esempio, il naturalismo in narrativa, il lirismo, l'ermetismo in poesia, proponendo un nuovo modo di scrivere e di leggere. Erano incontri fra amici per condividere il lavoro e progettare nel senso. Balestrini, Manganelli, Pagliarani e altri occasionali. Ci riunivamo per verificare i test di informazione, quindi lavoro sull'opera, fare progetti, esplorare teorie, scambiarci libri e soprattutto per incoraggiare la nostra differenza dall'uso corrente della letteratura, ma accadeva tutto per caso. E qui un'altra foto, gruppo di lavoro, sempre nel 1963, anche qui c'è una figura femminile, e in un testo successivo che viene pubblicato nel 2013 che comprende gli atti del congresso del 1965 del gruppo 63, cioè il secondo di Palermo, perché c'è stato, sono cinque sostanze gli incontri del gruppo, no? Il primo a Reggio Emilia, il primo, scusate, a Palermo, il secondo a Reggio e di nuovo il terzo nel 1965 a Palermo, dedicato fondamentalmente al romanzo, quindi gli atti di quella sessione sono dedicati al romanzo sperimentale. E nel 2013 vengono pubblicati gli atti della sessione del 1965 poi con un'appendice intitolata Col segno di poi. In questa appendice sono i protagonisti di allora che prendono la parola e giudicano quello che appunto avevano fatto allora insieme a testimoni invece più giovani che esprimono un giudizio a loro volta su quelle vicende. E qui troviamo la testimonianza di Lucia Re, no? Una che ha partecipato appunto a quelle sedute molto critica. Il suo intervento si intitola Fanarini di coda perché dice oggi l'antologia, no? E quindi quella che racchiude gli interventi sul romanzo sperimentale risulta più che mai segnata da un'ideologia patriarcale e misogina ma lo si vede anche dalle foto sono pochissime donne, no? Eppure si apriva con una serie di fotografie di Giulia Nicolai che ritraggono varie fasi dell'incontro di Palermo. C'era anche un bel ritratto di Carla Vase non è la foto che vi ho messo io perché questa non l'ho trovata con Antonio Porta un altro dei telefoni del gruppo 63. Lo sguardo di lei è rivolto ai fogli che Porta sta leggendo come uno che si accinge a parlare. I suoi interventi sono antologizzati infatti nella seconda parte dell'antologia mentre l'intervento di Carla Vase è nella terza parte la chiude come fanalino di coda eppure nonostante la foto testimoni il contrario cioè il fatto che lei ci fosse veramente che fosse presente nell'introduzione Balestrini spiega che gli interventi della terza parte tra cui c'è appunto l'intervento di Carla Vase sono di autori che non c'erano all'incontro non erano presenti quindi addirittura viene carcellata la presenza fisica di questa rappresentante di questa scrittrice che invece era assolutamente presente partecipava al dibattito come spiegare questa strana invisibilità come spiegarla come funzionato come hanno funzionato le cose con il meccanismo attraverso il quale hanno funzionato le cose per decenni quindi in sostanza le autrici c'erano ed erano Carla Vase Giulia Nicolai Alice Ceresa Marina Mizzau oltre ad Amelia Rosselli una assoluta ignoranza ovvio ma alle quali non viene dato naturalmente adeguato spazio è chiaro che il tema fondamentale cioè l'argomento il tema di ricerca fondamentale del gruppo 63 è il linguaggio qui ho messo una foto dei futuristi nel 1913 abbiamo Carraro Solomazza Marinetti Buzzi e Boccioni l'ho messa perché mi piaceva fare questo confronto con una foto degli appartenenti al gruppo 63 Arbasino e Umberto Ecco con la pipa Sanguinetti e quello lì dice l'Arbasino so chi è ma in questo momento mi sfugge comunque torniamo indietro un attimo cosa volevo farvi vedere volevo farvi vedere che non c'è nessuna differenza ci sono pochissime differenze rispetto a come si presentano questi due gruppi di avanguardisti diciamo anche qui abbiamo abiti di foggia tradizionale abbiamo i papillon rispetto alla cravatta un cravattino più corto colletti inamidati di là non ci sono colletti inamidati ma non c'è molta differenza perché abbiamo sempre abiti di foggia tradizionale cravate quasi tutto uguale è vero che la foto è in bianco e nero ma non immagino che avessero non so un completa giacca fucsia io immagino posso immaginare che andassero dal beige al grigio chiaro al grigio scuro al nero calzini tutti neri quindi cioè è ancora evidente il fatto che per quello che riguarda il costume devono ancora arrivare devono ancora arrivare 68 chiaramente perché nel 63 diciamo la modalità di presentarsi dei giovani è anche vero che loro penso d'Arbazino per esempio in 1930 e con il 36 non sono giovanissimi quando partecipano al gruppo 63 non sono giovanissimi adesso vorrebbero definiti giovani ma allora non venivano definiti giovani quindi ma di fatto anche i giovani stessi non si presentavano diversamente dicevamo la questione della lingua è il tema principale sul terreno di una vera e propria aggressione al linguaggio messa in atto con l'obiettivo di liberare nella lingua la funzione poetica e disincrostandola dagli usi in cui si è rigidita si misura sia il punto di contatto e di vicinanza tra l'avanguardia sia il punto di rottura tra l'avanguardia e l'avanguardia storica il futurismo identifica il linguaggio con la lingua tradizionale della letteratura e quindi aboliamo il chiaro di luna e questa è la parola d'ordine la poesia in particolare per l'avanguardia il bersaglio è diverso il bersaglio è la natura comunicativa della lingua colta nel momento di una grande trasformazione sociale e linguistica dovuta alla sovraesposizione attraverso i mezzi di comunicazione di massa ai lessici specialistici settoriali pubblicitari e che cosa fanno cosa fa la pubblicità capta gli ingredienti linguistici che possono servirle e li restituisce dopo un accurato lavoro di laboratorio con appropriazione in debite quindi la lingua è continuamente usurata è continuamente appunto contaminata quindi Bariglia e Guglielmi dell'introduzione all'antologia del 76 che raccoglie per la prima volta in modo sistematico documenti dice il linguaggio lo ribadisce il linguaggio non serve né come specchio di contenuti predeterminati né come eco-consolante dei tormenti psichici individuali cioè l'autore che agisce in questa direzione più di ogni altro è Sanguinetti e che ragiona sul linguaggio c'è l'idea se volete davvero quasi possiamo dire tra virgolette delirante ma essendo imbevuta quest'idea della materia di allora cioè del diciamo linguaggio comune di allora e della possiamo dire l'immaginario di allora che con una parola usurata non ci stupisce adesso ci stupisce ma allora e anche negli anni settanta non stupiva quindi l'idea era questa che sul linguaggio questi autori riponevano tutta la responsabilità di un'utopia formalista che però non doveva essere un'utopia non sarebbe dovuta essere un'utopia che avrebbe dovuto trasformare soltanto i testi poetici o i romanzi cioè il grado di rigenerazione della lingua che secondo gli autori del gruppo 63 no? avrebbe ricevuto la lingua da questo ragionamento da questo insieme di riflessioni collettive no? il grado di rigenerazione sarebbe stato tale da investire non solo no? quello che rimaneva dal neorealismo il neonaturalismo il post-anemettismo in letteratura ma diciamo il tritume di esistenze rassegnate in schemi sociali prevedibili no? con l'arma della messa al bando in una lingua abusata e stantia cioè cambiare la lingua era secondo questi autori un'operazione politica che avrebbe cambiato l'esistenza degli individui e quindi è una questione complessa questa perché cosa succede? che mentre si pongono questo ideale universale no? di cambiare attraverso il ragionamento sulla lingua no? attraverso questo diciamo ovviamente di liberazione linguistica dalle scorie che appesantiscono la lingua loro elaborano un progetto politico mentre fanno questo lo fanno ragionando in termini incomprensibili alla maggioranza delle persone perché ragionano con i termini in avanguardia cioè leggere adesso i testi molto difficile leggere adesso i testi di questi autori i testi teorici non solo i testi teorici cioè sfido chiunque a leggere adesso i romanzi di Sanguinetti non tutti forse ma la maggior parte sfido chiunque adesso a leggere e a comprendere i testi poetici di Sanguinetti cioè la fruizione di questi testi è riservata a un'elite di specialisti e quindi questo afflato utopistico non ha funzionato non ha funzionato assolutamente perché si può spiegare in questo senso cioè i lettori di opere di tale genere non sono mai in sincrono con l'opera stessa cioè quindi la riflessione teorica allora era alta e chiaramente il pubblico di allora non avrebbe potuto cogliere ma perché erano avanti in sostanza e questa lingua dell'avanguardia è destinata a lanciare il suo richiamo al futuro a noi forse ma anche a noi arriva in modo faticoso e secondo me non viene raccolto Curi il critico che ha analizzato questo problema dice fra gli scopi dell'avanguardia non è la soluzione definitiva delle questioni che essa affronta l'essenza dell'avanguardia che proprio per questo non è mai estesa temporalmente è legata al fatto che essa ha sempre dei compiti urgenti da assolvere e che l'urgenza di questi compiti verrebbe meno se fossero assolti quindi non tocca all'avanguardia risolvere le questioni che pone questo è quanto l'avanguardia pone affronta problemi capitali ma che sono irrisolvibili e per portare in classe tutto questo discorso che sto facendo e per ricordare a me stessa e a tutti voi che siamo insegnanti che quindi oltre a formarci poi dobbiamo lavorare con i ragazzi vi faccio questa proposta didattica propongo di leggere di portare in una quinta direi liceo questo poemetto di Elio Pagliarani la ragazza Carla del 1961 io credo che sia assolutamente proponibile per vari motivi innanzitutto è a differenza dell'epoca di Sanguinetti leggibile perché Pagliarani si affida diciamo a una poetica più vicina allo spirito del Menabò cioè quindi di Vittorini quindi in aderenza alla realtà anche nella lingua e si affida alla tradizione narrativa lombarda antilirica penso a Parini e penso a Porta sarebbe bellissimo fare una unità didattica mettendo Parini che però io dichiaro di non leggere più in classe Porta e poi Pagliarani cioè per cogliere questa corrente narrativa nella poesia e in cosa consiste però la novità cioè cosa consiste il carattere avanguardistico di questo testo nella contaminazione linguistica delle contaminazioni linguistiche del registro espressivo il fatto che la struttura narrativa si apre per accogliere materiali che arrivano da alto per esempio troviamo la certi di manuali di datilografia cioè trattati di diritto internazionale il gergo della contabilità la lingua inglese francese si alternano i registri alto basso e poi alla fine lirico quindi al canto realista si affianca un controcanto lirico soggettivo la storia è questa una giovane 17 anni ragazza datilografa milanese alla vigilia dell'elezione del 48 sperimenta l'alienazione e il domine di classe del capitalismo rampante della ricostruzione post bellica l'istanza narrativa del poeta Pagliarani non si esaurisce con la ragazza Carla e neanche l'istanza lirica di Pagliarani si esaurisce perché Pagliarani scrive altre poesie di altro genere però in particolare poi nel 95 uscirà la ballata di Rudy che è un vero e proprio romanzo lirico torniamo alla ragazza Carla un po' metto in tre parti con una struttura prevalentemente narrativa la prima parte è costituita da nove strofe a ciascuna delle quali corrisponde una scena mentre le altre due parti sono formate di sette strofe di varia lunghezza quindi che cosa raccontano? raccontano la vita in periferia periferia via Ripamonti adesso averci una casa di via Ripamonti comunque allora la periferia allora la vita in periferia di Carla Carla Dondi figlia di una vedova che vive in questa casa di periferia con la sorella e con il marito della sorella Carla aiuta la madre che di lavoro assembla pantofole cioè crea pantofole fino a che non trova dopo aver frequentato la scuola di dattilografa di fronte alla Bucconi non trova lavoro in una ditta che ha sede in piazza del Duomo e quindi tutte le mattine lei affronta il viaggio da via Ripamonti a Duomo quindi c'è questo ingresso nella metropoli urbana industrializzata terziarizzata no e quindi il distacco dall'ambiente familiare è l'ingresso del mondo degli adulti del mondo del lavoro che non è un ingresso che ha così tanto successo comunque vedremo adesso va a anticipare quindi sempre vissuta in un ambiente degradato diciamo non è un'eroina questa ragazza è una ragazza normale perché una delle parole d'ordine del gruppo 63 è quello di mettere al centro della letteratura la medietà umana ok quindi lo fa anche Calvino anche se Calvino è un antagonista del gruppo 63 lo fa anche Calvino nello stesso anno del gruppo cioè della sessione di Palermo nel 1963 perché pubblica Marco Valdo Marco Valdo è questo c'è un come dire uno spampinato che si trova in mezzo alla realtà urbana e che è un disagiato non fraintende non coglie non capisce cioè un disadattato in sostanza ecco allora legata tanto poco allenata alle domeniche cittadine che spesso il sabato si prende un sonnifero opportunamente dosato che la faccia dormire fino a lunedì ha un senso dedicare a quella ragazza questa ragazza Carla si chiede appunto Pagliarani e ci dice iniziamo dalla seconda parte no Carla Dondi fu ambrogio di anni 17 primo impiego steno dattilo all'ombra del duomo sollicitudine e amore e amore ci vuole al lavoro sia svelta sorrida impari le lingue le lingue qui dentro le lingue oggigiorno capisci dove si trova Transocean Limited qui tutto il mondo è certo che sarà orgogliosa signorina noi siamo abbonati alle pulizie generali due volte la settimana ma il signor Pratec che è appunto il socio del padrone è molto esigente amore al lavoro amore all'ambiente così nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino sarà sua prima cura la mattina quindi già qui vediamo no l'alternanza di diverse voci quindi la voce narrativa poi la voce della ditta ok che accoglie Carla e che la estruisce ufficio A ufficio B ufficio C perché non mangi la voce della madre adesso che lavori ne hai bisogno adesso che lavori ne hai diritto molto di più alla sera dopo il lavoro Carla sfinita nel letto si è levato nel bagno si è lavata nel bagno e poi nel letto si è carezzata tutta quella sera non le mancava niente c'era tutta come la sera prima pure con le mani con la bocca si cerca si tocca si strofina ha una voglia di piangere di compatirsi ma senza fantasia come può immaginare di commuoversi tira il collo all'indietro ed ecco tutto quindi appunto Carla è un personaggio mediano che non ha nessun eroismo neanche nell'immaginazione è interessante questo inserimento diciamo di queste notazioni relative alla sessualità femminile che anticipano quelle di Vasco Rosso del 1979 con Alba Chiara e cosa succede nel frattempo non ve lo leggo tutto succede che Carla subisce le attenzioni del signor Pratec che tenta quasi la seduzione allora scappa di corsa no 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 Carla in fuga negando una corsa fra i segnali del centro non si nota se non c'è fra i venditori di sigarette un meridionale immigrato di fresco lui si è ancora curioso di facce no avanti in marcia chi ci mette la carica scapigliata pallidona non è vero se non urli come paonazza tra bigliare quel tale per diffondere un giornale questo no ribadisce Carla no ho paura mamma mamma dondi ho paura c'è un ragno ho schifo mi fa schifo alla gola io non ci vado più nell'ufficio B non c'era nessuno mi guardava con gli occhi acquosi se tu vedessi come gli fa la vena ha una vena che si muove sul collo signorina signorina mi dice mamma io non ci posso più stare è venuto vicino che sentivo sudare ha una mano coperta di peli di sopra io non ci vado più schifo 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 come se avessi preso la scossa ma sono svelte a scappare io non ci vado più sagome dietro la tenda marledeco del bocchino sottile la sete i profumi i serpenti l'ombra suona un violino di fibre di nervi sagome colore di sangue blu azzurro viola per vinca sottile braccia le cosce enormi bracciali molli sul cuore nudo l'amore calvo la belva che urla la vergine santa l'amore che canta chissà dietro la tenda le sagome la vedova signora Donni quindi la madre forse si sarà spaventata ma non ha dato tempo a sua figlia non ti ha nemmeno toccata gli chiederemo scusa finché ne trovi un altro tu non lascerai l'impiego bisogna mandare dei fiori alla signora Pratec quindi non ha il pragmatismo della madre che quindi impedisce la figlia di ritirarsi dal lavoro e la obbliga a continuare ad andare a lavorare e poi Carla continuerà a frequentare appunto l'ufficio del signor Pratec incomincerà anche una sorta di relazione con un collega di lavoro ma tutto questo non genera un senso di appartenenza e un senso di entusiasmo naturalmente perché no? il tema qual è? il tema è quello appunto dell'alienazione e espresso torno indietro un secondo dal punto di vista formale con la sovrapposizione appunto di diverse voci abbiamo la voce A che per esempio è questa qui di commento in corsivo e la voce B che descrive la storia la narrazione molto lenta e difficilmente viva verso il pathos e poi la voce C dove abbiamo gli elementi contestuali che circondano la narrazione e costituiscono la situazione e per esempio quelle le tre maiuscole che abbiamo visto che identificavano in questa parte per esempio la targa dell'ufficio in questa parte C ci sono per esempio le parti che abbiamo detto arrivano dal manuale di datilografia dal manuale di diritto internazionale dal manuale di contabilità eccetera e quindi dicevamo il tema è l'alienazione ma è un tema già logoro anche per gli autori del gruppo 63 talmente logoro perché nel dibattito politico di allora dibattito assai politicizzato di allora è un tema proprio all'ordine del giorno e Eco che è in sostanza un po' il burlone del gruppo diciamo racconta che nella riunione di Palermo del 1963 del gruppo lui aveva scritto questa canzonetta scritta sull'aria di Arrivederci che era un successo di quell'anno e che lui canticchiava nelle pause dei lavori del corso quindi ho messo anche il link di Arrivederci se qualcuno vuole poi cimentarsi e provare a cantarla quindi questa confederazione generazionale abbiamo detto esce dallo stato di latenza per un riconoscimento pubblico con le uscite del gruppo l'occasione della prima uscita del gruppo è la settimana internazionale di nuova musica a Palermo appunto che riunisce a Palermo i compositori dell'avanguardia musicale degli anni Ligeti Evangelisti Clementi Donatoni Nono Stockhausen Berio Bussotti Cagel tutti i protagonisti di un importante movimento di innovazione e cosa succede che le esibizioni musicali vengono inframmezzate appunto dagli interventi dei rappresentanti del gruppo 63 alternati a lettura a porte chiuse dei lavori in corso come abbiamo detto quindi il gruppo ha una parabola discendente negli incontri successivi fino a come dire esaurire la sua carica propulsiva con l'ultimo incontro quello di Fano perché diciamo è una carica propulsiva che si esaurisce per colpa di un dibattito interno sfinente logorante le varie parti le varie anime del gruppo 63 quella più radicale quindi ci mettiamo dentro Sanguinetti Balestrini quella diciamo più socialdemocratica tra virgolette quella più moderata non so Arbasino per esempio le anime che sono del tutto a parte all'altra non so Manganelli mi viene da dire cioè dibattono dibattono in modo stremante tra di loro e fino a esaurire insomma diciamo l'energia ok quindi forse vale la pena di sintetizzare in sostanza l'eredità che ci hanno lasciato innanzitutto un'eredità fondamentale è il fatto che il dato che gli autori del gruppo 63 hanno contribuito a sdoganare attraverso delle traduzioni gli autori del modernismo cioè mentre è in atto il movimento della new avanguardia quindi tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 in Italia arrivano autori come Musil Joyce Virginia Woolf che circolavano prima su rivista ma non si rileggeva quasi nessuno e arrivano appunto e loro arrivo nella cultura italiana coincide con la new avanguardia tant'è vero che è come se al modernismo nella fruizione italiana venisse appiccicata affibbiata l'etichetta della new avanguardia fanno fatica a svincolarsi in sostanza e dicevamo uno degli elementi tipici di Joyce uno dei temi tipici di Joyce è quello epifania viene auspicato anche dagli autori della new avanguardia ma Barilli nel suo testo normalizzazione e abbassamento che è appunto un intervento sul romanzo del 1965 ci dice come deve essere l'epifania ora quindi l'epifania dei primi autori novecenteschi erano attimi sublimi momenti estatici che per la loro stessa intensità presupponevano di essere presto evacuati ai nostri giorni l'epifania non sfuggirà neanche essa ai fenomeni di normalizzazione e abbassamento normalizzazione che cosa intende Barilli cioè i giovani romanzieri procureranno di prolungare l'estase epifanica non posso aprire scusate 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 c'è una situazione paradossale vado un attimo a cacciare questi perché non non apro perché non voglio vedere quindi in sostanza scusate allora dicevamo normalizzazione nel senso che i giovani romanzieri procureranno di prolungare l'estase epifanica di non l'ascolto da travolgere quasi economizzando un momento che pure di per se stesso si presenta come il non plus ultra un atteggiamento antieconomico di spreco di consumo folle quindi tesaurizzare l'energia dell'epifania il momento epifanico e diluirlo tutto ciò si può ottenere solo a patto di mantenere giù di giri il momento statico di congelarlo torniamo a questa idea della freddezza per così dire di fare un'esplosione frenata quindi come funziona questo meccanismo dell'abbassamento per esempio introducendo elenchi ok introducendo enumerazioni questo è per esempio un elemento volevo parlare della polemica di Barilli verso Calvino ma l'assalto perché non voglio poi finire la vostra pazienza guardiamo i lasciti quindi quali sono dei lasciti importanti quelli che poi hanno portato la cultura novecentesca verso il postmoderno perché l'avanguardia è la radice del postmoderno novecentesco quindi la tecnica della riscrittura il pastisce le descrizioni lenticolari lentissime che generano trame inconsistenti e deboli quindi la trama perde di peso per lustrare rotte già battute ingaggiare giochi combinatori con i materiali di seconda mano inautentici cedere un'esperienza della realtà modellata dall'interferenza dei media cioè appunto filtrata dai media il citazionismo intertestuale il plurilinguismo l'aderenza tematica con la realtà contemporanea come abbiamo visto con Pagliarani l'uso del registro basso del testo della lingua colloquiale la propensione alla freddezza il congelamento di ogni potenzialità lirica del linguaggio poetico l'apertura enorme ai contesti letterari internazionali una radicale riorganizzazione del canone attraverso la pratica della interdisciplinarietà quindi l'apertura alle arti l'inserimento di autori fondamentali della modernità l'abbiamo detto e la battaglia contro un'idea arroccata e insostenibile di purezza della letteratura che era ancora in vigore e della lingua una rivoluzione segnologica io credo che l'autore che più di tutti sintetizzi tutto questo sia Umberto Eco nel nome della rosa nome della rosa perché Umberto Eco usa gran parte di quei laciti di cui abbiamo parlato e anche perché nella riflessione teorica è quello più chiaro che ha ben chiaro il meccanismo di esaurimento della vanguardia di ripiegamento dell'avanguardia su se stessa e lo dice arriva il momento in cui l'avanguardia cioè il moderno non può più andare oltre perché ha ormai prodotto un metalinguaggio che parla dei suoi impossibili testi l'arte concettuale la risposta postmoderna al moderno consisteva nel riconoscere che il passato visto che non poteva essere distrutto doveva essere rivisitato in un modo non innocente e quindi lo chiarisce in un altro testo ma nelle postille al nome della rosa quindi del 83 l'aveva già detto quindi in un modo ironico famosissimo questo testo proprio lo uso per chiudere penso l'atteggiamento postmoderno quindi quello che eredita all'avanguardia come a quello di chi ama una donna molto colta e che sappia che non può dirle ti amo disperatamente perché lui sa che lei sa e lei sa che lui sa che queste frasi le ha già scritte gli ala tuttavia c'è una soluzione potrà dire come direbbe gli ala ti amo disperatamente a questo punto avendo evitato la falsa innocenza avendo detto chiaramente no a questo punto avendo evitato la falsa innocenza avendo detto che non si può più parlare in modo innocente costui avrà però detto alla donna ciò che voleva dirle che la ama ma che la ama in un'epoca di innocenza perduta se la donna sta al gioco avrà ricevuto una dichiarazione d'amore ugualmente nessuno dei due si sentirà innocente come noi non ci sentiamo lettori innocenti leggendo il nome della rosa perché sappiamo che è un romanzo scritto come se no non fosse mai stato scritto un romanzo giallo che prende spunto dagli innumerevoli romanzi gialli scritti prima entrambi avranno accettato la sfida del passato del già detto che non si può eliminare entrambi giocheranno coscientemente e con piacere al gioco dell'ironia avevo messo su youtube caricata una poesia di Corrado Costa che però dura quattro minuti quindi io mi fermo e non so se come dire c'è tempo c'è voglia ancora di ascoltarla ma andrò nei materiali era una poesia che in sostanza rappresentava proprio una specie di testamento quello che rimane quello che rimane di tutto questo discorso cosa abbiamo avuto di Corrado Costa il 1989 però ve la lascio e mi fermo scusate se mi sono dilungata e se vi ho stufato mi dispiace di essere stata prolissa grazie Claudia una bellissima bellissima conferenza assolutamente anzi io ti lascerei parlare ancora se ci fosse dell'altro tempo veramente molto interessante anche diciamo come indicazione di metodo di lavoro nel senso che sei partita dalla letteratura greca romana quindi sei riuscita a collegare contenuti che gli studenti affrontano in altre discipline hai fatto una ricostruzione del contesto culturale economico politico negli anni 50 fino appunto al 68 ricchissimi quindi riferimenti anche che permettono allo studente di creare appunto di crearsi una visione complessiva fino ad arrivare poi insomma a entrare nel merito del discorso letterario e mi sembra che anche il testo proposto che non conosco effettivamente si potrebbe leggere questo poemetto si è una proposta praticabile per avvicinarsi a un tema a un argomento che difficilmente a scuola viene affrontato che spaventa anche perché un po' non ci arriviamo cronologicamente ad affrontare il gruppo 63 ma anche effettivamente c'è una corrente di pensiero complessa lascio spazio alle domande adesso al tema del femminicidio della violenza eccetera eccetera perché c'è il tentativo di seduzione da parte del manager quindi del padrone dell'azienda del socio del padrone certamente la prima cosa infatti che mi è venuta in mente possibili collegamenti proprio con questo tema della violenza sulle donne certo io lascio spazio agli interventi quindi chiudo disattivo di nuovo l'audio per non avere risonanza credo che se qualcuno ha bisogno di parlare voglia di parlare credo che si debba dare la voce però adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole fare la domanda se no ci salutiamo e non voglio trattenere oltre nel senso che so che siamo tutti pieni di impegni e quindi insomma già a questo tempo prezioso che mi è stato concesso insomma di questo vi ringrazio in sostanza mi ha fatto piacere condividere con voi questo argomento che avevo approfondito durante la tesi dottorato prima di lasciarci io volevo ricordare anche i nostri prossimi appuntamenti se non ci sono domande però perché dunque mi pare che dalla chat non ci siano domande no allora vi volevo ricordare il 20 marzo sabato 20 marzo un'iniziativa che noi facciamo per gli studenti sia della secondaria di primo grado che di secondo grado con Gianluca Genovese dell'Università di Napoli fa parte del progetto Rodari questa iniziativa che avevamo progettato per novembre ma che abbiamo dovuto a gioco forza rimandare sabato 20 marzo Gianluca Genovese si collegherà con le nostre scuole per una conferenza intitolata l'universo fantastico dell'Orlando Furioso Dario Osto e Harry Potter è un'iniziativa comunque che è aperta anche ai singoli docenti interessati e che si svolgerà al mattino la piattaforma è quella dell'Iceo Spallanzani chi vuole iscriversi a questa iniziativa scriva l'ufficio formazione dell'USPE dell'ufficio scolastico e poi naturalmente la prossima lezione del nostro corso la voce dei testi giovedì 25 marzo alle 15.30 sempre Corrado Gambini che è sempre docente dell'Iceo Spallanzani farà un intervento su Magrelli e la poesia degli anni Ottanta mi riguarda questo un cambio di dati ma saranno avvisati tutti quindi arriverà l'abuso che per caso ci sarà un cambio non di dati di relatore ma su questa conferenza di Magrelli sì probabilmente non siamo ancora sicuri va bene Corrado dice che il 25 marzo è Giorgio Bioni e la sua sarà il 15 c'è stato uno scambio in sostanza per problemi di un relatore ok le dati sono invertite ma comunque manderemo a tutti gli avvisi e non so se Cizza vuoi annunciare anche il seminario su Rodari sì certo ecco poi arriverà presto la locandina nelle scuole di due pomeriggi seminariali che sono dedicati appunto diciamo al poema cavalleresco dalla tradizione fino appunto alle attualizzazioni contemporanee le date sono mi pare un attimo che devo controllare le date non me le ricordo mai scusate allora il primo pomeriggio è il 21 aprile il 21 aprile con gli interventi di Cristina Montagnani Elisabetta Menetti Stefano Iossa e rimaniamo nell'ambito appunto Boiardo Ariosto fino ad arrivare appunto a un'anticipazione anche della rilettura attraverso Caldino e Celati e poi il 7 maggio invece altro pomeriggio di seminario con la seconda parte che riguarda invece più in specifico il contributo di Gianni Rodari quindi avremo Vanessa Roghi e una docente dell'Università di Bologna come si chiama Claudia ti ricordo Cristina Gamberlo una giovane ricercatrice esatto questa giovane ricercatrice che fa un intervento molto interessante appunto su diciamo la Rodari la letteratura per l'infanzia vista però dal punto di vista delle bambine ecco direi che adesso comunque mandiamo le locandine sono i due pomeriggi di aggiornamento riconosciuti riceverete gli attestati e siamo prossimi insomma a inviare anche nelle scuole la comunicazione ci salutiamo ci salutiamo grazie Claudia grazie a voi e a tutti i colleghi presenti un saluto carissimo e a presto ciao a tutti grazie a tutti è andata molto bene Claudia bellissima ma non lo so comunque aspetta dai no bellissima bellissima mi piaccetta molto ho preso un sacco di appunti ho caldo ho un caldo di sedia adesso vai ad aprire la porta Claudia vai ad aprire la porta con questo romanzo la porta della Svabo non avete questa porta ma secondo te si può ma è sempre così meno male che non era la lavatrice che esplodeva piuttosto che va bene ci vediamo presto ciao un abbraccio ciao 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 ciao